Salve cari amici del web, siamo nel Borneo in Indonesia. Quello che vedete è un bellissimo salottino dal gusto Kitsch. Ecco, su questa inquadratura chiudo qua dicendo che i gusti sono molto suscettibili, hanno un po' lo stesso gusto dei russi. Ecco, ci sentiamo alla prossima, continuate a seguire le mie entusiasmanti puntate in clip di Te la do io all'Indonesia. Ecco, per farvi vedere che siamo realmente in Indonesia, ecco anche una inquadratura di strada. Ciao a tutti!